Tra poco a Tutoriality su Thea Kids. La sentite? L'invasione musicale? Happy Christmas! E ovviamente... You better watch out, you better not cry. Ci sono cascati anche loro! Scommettiamo che faranno tremare il Polo Nord? Yeah! Yeah! Prepariamoci al Natale con Music Distraction, speciale Happy Christmas, lunedì 4 dicembre alle 19.50. Solo su Thea Kids! Niente male il futuro, sono gli anni d'oro della TV. Bella Blu! Bella! Da far paura! Giusto, non l'hai ancora scritta. Guarda! Ciao Sky, metti Spider-Man! Non si dice più l'uomo ragno? Eh, l'hanno ucciso! È più bello tornare a casa con Sky Glass, molto più di una TV. Ma nel 2023 le TV sono tutte così? No, solo la mia. La nostra! Nuova casa dei sogni, Barbie sale per la festa e poi tutta in camerezza. Oh, lo scivolo per un super tuffo. Scopri la nuova casa dei sogni. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Ciao, ecco Gravitrix Junior! Viviamo insieme una magica avventura! Guarda, un martello! Oh, un ragno! È solo un ponte! Yahoo! Gravitrix Junior, la tua fantastica pista di miglie da Ravensburger! Sognate di diventare grandi artisti? Con Creart. Dipingi il tuo capolavoro seguendo numeri e colori. Lo incornici e il risultato è strepitoso. Gravitrix Junior! E divertiti anche con i fantastici atelier di Creart. Stai dicendo la verità. La macchina delle bugie ce lo dirà. Hai mangiato tu l'ultima fetta di torta? Oh oh, stai mentendo. Hai fatto i compiti? Ora tocca a te. Cambi i calzini tutti i giorni. Riuscirai a ingannare la macchina delle bugie. Camera Escape! Raggiungete la camera. Disattivate il sensore di movimento e scollegate i cavi giusti. Riuscirete a scappare? Camera Escape! Giorno presenta... Cronobomb! Bomba localizzata. Devi disinnescarla. Attraversa il corridoio. Ma attento ai laser. Usa la torcia speciale per giocare al buio. Se tocchi un laser, il timer accelera. Presto! Cronobomb da Rocco Giocattoli. E se fossi... Sono un bulldog? No, sei un hotdog! Sono una torta? No! E se fossi... Spaghetti? Indovinato! E se fossi da Rocco Giocattoli? Scopri... Spaghetti? Indovinato! E se fossi da Rocco Giocattoli? Scopri anche... E se fossi Mimo? Ogni piccolo passo è un passo importante per il tuo bimbo e per il pianeta. Ecco perché i cavalcabili chicco sono creati in Italia con plastiche riciclate e sono studiati per accompagnarlo nel movimento verso il mondo di domani. Rispettando la sua crescita e l'ambiente. Per un divertimento a tutto tondo. Così ogni piccolo passo compiuto sarà grande anche per il pianeta. Cavalcabili chicco. Chicco. Live it. Love it. È arrivato DJ Nino Salterino! Conto e salto! Uno, due, tre, quattro... Per imparare i numeri e l'alfabeto al ritmo di musica! Ripeti le tue frasi con un divertente effetto remix! Preparati a ballare con DJ Nino! Esiste un villaggio superlucicante in cui la festa e i glitter in cui la festa e i glitter non finiscono mai! A chi non piacerebbe? Ma proprio mai! Esagerare ancora un po'? Rigolami! Cambiamo! Trolls! La festa continua! Dall'unedì 18 dicembre alle 17.25 su Dea Kids! E ora... A Tutto Reality su Dea Kids! Nella precedente puntata di A Tutto Reality l'isola si è svolta una sfida alimentare Bowie ha vomitato Ria...